Su questo canale lo sapete si parla principalmente di gaming quindi di configurazioni dedicate ai videogiocatori Ma ci sono tutta una serie di persone che comunque mi contattano e che sono interessate invece magari a dei semplici pc per uso home o per uso ufficio Magari specialmente in questo periodo di quarantena o di smart working dove il lavoro da casa spesso non è agevolato da pc vetusti vecchi che si bloccano Che non vi fanno aprire un file word e quindi tutte queste cose ci pensa MV Hardware A consigliarvi una configurazione che potete comprare tranquillamente ovviamente acquistando le componenti su Amazon E magari potete anche sperimentare l'assemblaggio perché è una configurazione molto facile da assemblare Oh prima di passare alla descrizione delle componenti vi ricordo che ovviamente troverete tutti i link per poter acquistare i pezzi giù in descrizione Inoltre giù in descrizione troverete anche il link per seguirmi su Telegram con il mio gruppo ufficiale MV Hardware Dove vi potete unire e potete venire a chiedere consiglio a fare delle domande E inoltre c'è il canale Telegram delle offerte MV Hardware Offert nel quale vi consiglio di venire a iscrivervi ed entrare Perché ogni giorno pubblichiamo tutta una bella serie di prodotti in forte sconto da Amazon Tra l'altro questa build qualche mese fa si poteva fare con qualcosa di soldi in meno Ma purtroppo stiamo vedendo ad un leggero aumento di prezzi Quindi seguite il canale Offerte perché magari cerchiamo di proporvi le componenti al miglior prezzo che riusciamo a trovare E le componenti di questo PC sono delle componenti molto basilari Infatti parliamo di 300 euro Ma parliamo di una configurazione che non ha nessun problema a gestire la maggior parte dei software e dei documenti Che normalmente si usano diciamo per lavoro E una prerogativa molto importante di un computer da ufficio o da home È non tanto la potenza di calcolo come vedremo Ma soprattutto la reattività C'è quella capacità di un computer di non farvi perdere tempo Di aprire in maniera veloce pagine web Di aprire in maniera veloce file, pdf Anche di grosse dimensioni E quella è una sacrosanta cosa Perché come vi ripeto e ho sempre ripetuto Quando si tratta di lavoro il tempo è denaro Come CPU ho scelto un Athlon di AMD Ovvero un 3000G Un CPU basato su architettura Zen Plus A 12 nanometri Che si trova in giro intorno alle 57 euro E l'ho abbinata ad una scheda madre Che è un MSI B450M A Pro Che si trova anch'essa intorno alle 70 euro Questa scelta è dovuta al fatto che magari se volete Potete ritoccare le frequenze Andando ad aumentare il moltiplicatore del 3000G Ma in descrizione vi lascerò anche una variante un po' più economica Di questa configurazione Basata su 200GE e su una scheda madre A320 Per chi magari vuole risparmiare qualcosina Perché si tratta di risparmiare 20-30 euro E non è interessato diciamo all'overclock Per quanto riguarda la RAM parliamo di un computer da ufficio Quindi non abbiamo grosse necessità 8GB abbassano e avanzano E quindi ho inserito questo kit 2x4 Delle Viper di Patriot Che comunque hanno delle alte frequenze 3200MHz Mentre come storage sono andato su una soluzione unica Non avendo necessità di installare grossi giochi O comunque di sfruttare grosse quantità di memoria Su un TC Samba da 256GB NVMe Proprio per il discorso che vi facevo poc'anzi Ovvero che questo deve essere un PC reattivo E non dobbiamo avere problemi in velocità ad aprire programmi e file Poi la maggior parte delle persone come me Quando si tratta di PC da ufficio o da home Preferiscono avere dei supporti magari esterni Quindi è facile che molti di voi preferiscano avere un hard disk esterno Un USB per poter gestire meglio i propri file E poterseli portare avanti e indietro Questione PSU Ho inserito un System Power 9 di Be Quiet da 350W Perché questa configurazione non sfrutta Non consuma più di un centinaio di W Quindi avere un buon alimentatore di qualità è necessario Ma ovviamente non esageriamo sui vattaggi Anche perché nel momento in cui magari un giorno Vogliamo inserire una scheda video dedicata In questa configurazione Come può essere Non lo so una 1030 o al massimo una 1050 da 2GB Non abbiamo grossi problemi Perché 350W ci dovrebbero bastare Infine prendiamo un case Diciamo quello che più ci piace E che costa poco Non abbiamo grosse necessità Perché questa CPU da soli 35W Non tocca più di 50-55W Anche sotto stress Quindi io ho preso questo wish case della Deepcool 35€ Ma voi potete prendere un po' quello che più vi piace Bene In performance come si comporta questa configurazione? Io direi che avendola provata sotto una serie di programmi Si comporta veramente bene Come vi dicevo il 3000G non è un processore Che ha una grossa capacità di calcolo Ma comunque essendo un dual core 4 threads Ci dà l'opportunità di poter utilizzare Tutta una serie di programmi Senza grossi problemi Soprattutto accoppiato a un SSD NVMe ci dà una bella reattività Inoltre basta il dissipatore stock Che viene dotato in confezione Perché ha un TDP di 35W Ho fatto una serie di ottimizzazioni Cioè mi sono messo e ho ottimizzato un po' Windows Su questo canale c'è un'intera playlist Dedicata a come ottimizzare Windows Però in breve ho semplicemente eliminato tutte quelle app inutili Che a volte vengono installate di default Ho tolto dei programmi che non mi servivano Ed ho tolto un po' di cose come indicizzazione Come ibernazione e cose varie Per quanto riguarda la navigazione in Chrome Questo PC non ci dà nessun problema E' completamente comodo Nell'aprire pagine Chrome Molto fluidamente Senza avere quei orrendi Time out Fra un click e l'altro Fra le varie pagine Ovviamente nel momento in cui avete Delle ottime connessioni Delle buone connessioni Questa è una cosa ovviamente scontata E anche nella visualizzazione dei video in Full HD a 60 fps Quali possono essere video su YouTube O anche streaming da piattaforme come Netflix o Prime Video Non abbiamo grossi problemi a goderci Diciamo video nei formati più comuni del Full HD Con questa CPU Che come vi ricordo ha una scheda video integrata Ovvero una Vega 3 Che ha frequenze che possono arrivare fino a 1100 MHz E tra l'altro ho fatto anche delle prove su un software Ovvero Headbreak Che è un programma che serve per trasformare un formato file video in un altro E prendendo ad esempio un breve file da 3 minuti in formato MOV L'ho trasformato L'ho ricodificato per così dire In H.264 E ci ho messo un minuto e mezzo Quindi può essere anche ottima Per poter sfruttare Ecco fare questi piccoli lavoretti Su formati file video E' ovvio che nel momento in cui voi prendete un film da due ore E lo volete farne in Goding in un altro formato Ci metterete molto tempo Ma quello capita anche con GPU più potenti Poi l'ho testato su una serie di software sintetici Ovvero là dove ci danno dei punteggi Come ad esempio PC Mark 10 Che non è altro che un software Che simula tutta una serie di utilizzi del PC Come può essere la navigazione Come può essere la videoconferenza E tante altre attività E devo dire che il punteggio è stato ottimo Facendoci superare tranquillamente i 4000 punti Anche in PassMark Ovvero in Performance Test Abbiamo ottenuto dei punteggi Abbastanza decenti Con 2200 punti Andandoci a mettere nel 40% della media mondiale Quindi voglio dire un PC tutto sommato Che per 300€ Ci dà delle performance abbastanza decenti Ma punto cruciale Chi di voi non ha mai bestemmiato Arrivando al lavoro E aspettando magari un minuto Perché il computer si era inceppato Nell'aprire un documento Word Un banalissimo documento Word O una tabella Excel Ebbene questa configurazione Ci permette di utilizzare agevolmente La suite office Aprendo documenti in Word Aprendo tabelle in Excel Senza il pericolo ovviamente Che il PC all'improvviso si inceppi Anche nel momento in cui magari Apriamo qualche file Consistente Bello pesante Io l'ho utilizzato Senza alcun problema E' molto piacevole l'utilizzo E quindi non abbiamo nessun problema Se alcuni di voi Hanno mai avuto problemi Di questo genere Con questi software Anche con i file PDF Potete lavorare tranquillamente Con programmi come Adobe Acrobatto Anche il semplice Adobe Reader Vi permette di aprire documenti Molto velocemente E infine l'ho testato Anche su alcuni applicativi CAD Come ad esempio AutoCAD 2021 Dove ho aperto alcuni progetti E devo dire che Anche trattandosi di Un PC da 300 euro Quindi molto economico Si è comportato Veramente bene Facendoci utilizzare La maggior parte Dei strumenti Messi a disposizione Da questi software Anche magari Qualche software Sempre CAD Di modellazione 3D Come Fusion 360 Non ha grossi problemi Ovviamente ragazzi Ricordatevi Limitatamente Alle performance Che vi può offrire Questa CPU Con questa Scheda video Integrata Bene Quindi tutto sommato Un PC Che costa appena 300 euro Ma che vi assicuro Per le caratteristiche Che ha Vi permette Di poter lavorare Tranquillamente Senza grossi Bestemmioni Ok Durante le vostre ore Di lavoro Vi ricordo Come sempre Di nuovo Di iscrivervi al canale Di andare in descrizione Perché trovate Tutte le componenti Giù Che abbiamo appena Elencato E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.